Questa qua è un po' difficile ammigate int perché i due gottene go hanno un po' di danni li pigliano Però lo smeltano eh sappiatelo che lo smeltano al primo crit che fanno andiamo Andiamo Sì prima l'ho fatta col wicked Questa musica non promette bene in effetti è vero è vero non promette bene No ma tranquillo non è un problema Oh ma guardate turno già fatto 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 Bubububum Babang Sbada bing Sbada bong Non andiamo per record o robe così andiamo solamente per concluderlo Ci vuole esattamente un pochino di fortuna laggiù in fondo però non è un problema alla fine dei conti Ma quando uscirà un Goku Super Saiyan 2 Angel Quello che hai nel team è nella seconda parte del Goku Day Global Quella forse sarà una rottura ability 1 eh sappiatelo che ability 1 potrebbe essere un po' una rottura No no tranquillo Sappilo che al primo crit con 10 milioni di danno tranquillo che lo smelto Goku Quello è lo scopo dell'intera run è smeltarlo vivo Non fargli vedere la luce del giorno Amiga Taint Oh Groenta grazie mille per i 16 mesi Grazie mille per il sub con Twitch Prime e Groenta Grazie mille Grazie mille per il sub Sapete chi sarà un po' inutile? Lui perché gira Lui perché gira è un po' inutile In realtà lo potremmo tenere in turno facendo meno danni però va a tankare Lo potremmo tenere sinceramente in turno per far girare l'altro Gohan fisico Modo di giocarlo E ability 2 Avevo abbastanza coin per prendere l'ability 2 quindi Lyukred Seram Non gioca più Dokkan Lyukred Nella seconda parte del Goku Day Ma si sta parlando almeno Credo che sia stato Oddio non mi ricordo il nome Uno dei Lyukred ha detto di stare attenti perché nel Global la seconda parte Cioè i due banner di Magetta Goku sono fatti per spillare soldi da qualcosa del Global First Quello che diceva almeno lui Quindi Chi lo sa Chi lo sa più che altro effettivamente Potrebbe anche uscire una Global First Ma se è una leggenda di Samon chi se ne altamente frega Cioè fregatemi Ogro venta stiamo facendo l'LGE col Goku Family Mi sono No te l'avevo già detto Te l'avevo già detto Te l'avevo già detto di pullare su Buu perché c'è roba migliore per te Gohan volevi la special Non te lo do Mi dispiace Niente special per questo bambino Niente special per questo bambino Come le 800 stone sono pronto per qualsiasi Global First LOL Vabbè con tutte quelle si ci sta per l'amor di dio Sera Killgar Ma i crit se magnano Non lo so eh Cioè sti crit Cioè bello lad per l'amor di dio Però i crit se ma... Ok bravo 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 Non ho detto niente tranquillo Tranquillo non ho detto niente Non ho detto niente tranquillo Tranquillo non ho detto niente Non ho detto assolutamente niente Vai e sciotta Da... Da Goku Blue Da Goku Super Saiyan Blue Usiamo l'item d'attacco Iniziamo ad usare gli item d'attacco Ci togliamo velocemente Li facciamo esplodere E basta Non è che Global First sarà un PG leader Saiyan Saga Giusto per triggerare chi come te A Nappa LR e deve aspettare quando uscirà nel JAP Ma... Allora se è un... Allora se è un legendary E' una legendary Me ne sbatterei del leader Saiyan Saga in quel modo Perché sarebbe il 130 Chissene Ok Ehm... Chissene altamente Meglio... Ehm... Super efficace o crit garantito Dipende Dipende da... Ad esempio Cooler Non gli servirebbe una roba del genere Anzi sarebbe Overkill Ma... Comunque di base Il super efficace è buono Però su un PG come Cooler Che ti fa 18 AD Il crit è meglio lì per lui Fa il più danno Ehm... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Andiamo così Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Balmpt oder Newwig 3 Non so come hai messo il tuo account... Quanti eventi ti mancano o... così se te ne mancano tanti si ne fai tante anche di stone se te ne mancano due non ne farai un cazzo è normale non lo so ho appena preso con tutti i errori che ho fatto disinstalto direttamente senza stare la ricominciare rip rip ma è bravo con critta un po anche te va bravo 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 piccolo con mostra al goku god come si critta sì però prima è la solita strategia prima lo trasformi meglio è prima lo trasformi meglio è a breve l'abbiamo poi trasformato quindi not a big deal si la sfruttiamo già non serve dopo tanto team android per lg io ti consiglio solo una carta due in realtà perché ti serve anche c13 però c14 e sono p la prima volta che vedono c13 in turno ti fanno vedere per sempre le special è forse l lg più lunga nel senso che è lunga da battere però è una cavolata perché sai dove ti fa la special sai dove tankare poi ovvio che la maggior parte di quei pg ti pigliano 100 miliardi a pugni normale però sai dove non arriva la special login mission è tutto come ho detto 200 230 270 stone al mese le pigli quindi ne puoi fare ancora tante ok iniziamo 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 ragazzi primo item iniziamo a divertirci ora ora questa non è più l lg questa è la family goduria questa è la goduria della family questo è come come si fa velocemente un evento quando ti vuoi levare dalle balle la run goku family spum medax grazie mille per il follow questo è quando ti vuoi levare velocemente una run forse è stato siblings l'avrei runato con tutta la mia felicità potevo usare virus virus che mi diverte gothenegon c'ere tutto un team che mi diverte molto però così è diverso goku family me gioco tra le sal str z2 sal rc 17 fisico si ci sta come team e ripeto un po di danni li vai a pigliare rischi la vita un po di volte però la fai easy e goku non se trasforma ma ta 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 ratata vadi spa pang kamehameha sette milioni in quel post e bad 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 in realtà queste bad bad un po di danni ripperotti siblings bond è quello di gothenegon è una canzone giusta per questo evento ma sai cos'è goku non si trasforma in questo caso perché i turni non durano troppo quindi abbiamo la chance di shottare goku non prendere danni tutto e è particolare cioè è facile trasformarlo lui non è uno di quei pg impossibile ok il�imiltro oof uff u you're dead bro i or dead you you're dead quant'at te fa poca poca è vedete questo e stato il problema di non tenerli intorno Questo è stato il problema Di non tenerlo in turno Non ha death Il Goku Gohan Peccato Allora Allora Cosa può succedere Davanti a noi Guardando nel prossimo futuro Cioè 3-4 turni al massimo Primo turno E iniziamo ad usare gli item Primo turno Usiamo i nostri item Cerchiamo di one shotare Lo scopo è quello Lo scopo è quello Fondamentalmente Il problema è Che il Goku Gohan Che abbiamo preso Friend È una pippa Ability 1 Quindi Non è facilissimo Che one shot Ok Buono La posizione degli attacchi Sinceramente è buona Non è una rottura Quindi ok Easy Facciamo in questo modo E vi mostro Quello che stavo intendendo Perché io semplicemente Lo voglio finire Velocemente Io Ah è ancora attivo Io Diciamo che Detesto un pochino Questo Migateint Ok Detesto un pochino Questo Migateint Credo che tutti Dopo un po' Lo detestino No no È giusto Nel senso Due palle Sempre Migateint Lo scopo è quello Di one shotarlo con i crit Se critiamo Abbiamo vinto Due turni in croce Se non critiamo Ci metteremo di più E possiamo perdere Tranquillamente Ok Questa è la situazione Ecco Questo è quello che Intendevo Nel senso Ok Però ne fa un'altra Quindi Porco Dio Rip 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 Ha deciso Di fare il contrario No Abbiamo chiesto Una cosa Ha deciso Di fare il contrario E io Non ci posso Fare niente Ragazzi Non ci posso Fare niente Ragazzi Dovevo andare in questo modo Item qui Un attimino Sono costretto ad usarli ora Ovviamente Io non parlo Non dico niente Però C'è il buffer E tutto Carica 10 milioni Potrebbero entrare i colpi Se entrano Se entrano Vinciamo Se Se Ecco Questo è un colpo Che entra Se è un crit È meglio Ecco Vedete Buono L'additional Niente critino Peccato Vabbè 3 milioni Di 3 milioni Di pugni Questa era la strategia Ragazzi Cioè Non è che Non è che C'era molto Altro da fare Nel senso Ovviamente Qua Perché Rischiamo un attimo La morte Ovviamente Perché Rischiamo un attimo La morte Facciamo questo Alla veloce Abbiamo comunque Anche per il prossimo turno Gli item attivi Saranno un po' meno orb Però Vabbè Ehm La sotto È meglio Prendere queste orb A GL Se no Esplodiamo Ehm Prossimo turno Chi c'è? Ehm Ah Gokunamek Ok Allora Questo turno Un po' di danni Si possono prendere Ok Però C13 C13 Non co C13 Ok Allora Come prima Questa è la situazione Si può crittare E farla Finita Cioè Proprio Finita Basta un colpo di Goten e Gohan Questo C'è anche il buffer Tutto Sono comunque 8 milioni e mezzo Potrebbe crittare Però è solo Ability 1 Quindi Se spera Abbiamo vinto GG Ci siamo tolti La Goku family Basta Finito È stato indolore È stato indolore Basta Ciao Addio Mai più Chi se ne frega Goku family Ce lo siamo tolti Wow Anche Wow 14 001 Eh non l'ho mai speedrunnato Qua sopra L'ho speedrunnato Di là È un record Un pochino diverso Si può fare tranquillamente Non serve Tancare Ragazzi Basta solo Shottare Un pochino di Un pochino di Un pochino di Un pochino di Ou già degree Пр